Ciao a tutti ho fatto prima mentre la provavo ho fatto prima ho fatto che mi cade il pad il futuro non è quello nuovo troppo force feedback lol no ho perso tempo no 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 noo cristo no 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 un minuto e due ho fatto per chi non lo sapesse il tempo è scritto sul casco praticamente no 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 16 minuti, 16 minuti 16 minuti 16 minuti 16 minuti 16 minuti 17 minuti questo gioco uscirà anche per Xbox One però l'unica pecca sarà che non si potranno inserire le mod quindi non penso di comprarlo perché vuoi giocare sul computer non si potranno inserire le modi forse l'abbiamo battuto al giro di prima che era 1.05 scusate adesso 1.04 forse l'abbiamo battuto ho preso troppo è poco a perso ok wow ah c'è l'abbiamo l'abbiamo ragazzi faccio l'ultimo giro qua non so quanto uscirà sto video penso breve sui 6 minuti non ho ne ho idea faccio l'ultimo giro qua stanno consumando le gomme non so non so non so non so non so ragazzi ragazzi ecco faremo l'ultimo giro ora non so non so non so quanto durerà la vita adesso sui 7-8 minuti non lo faccio lungo quanto quello in amagnipur perché è troppo lungo quello intanto è solo un terzo della ventura però la parte più bella del circuito prima di non sbagliarla eh le gomme le gomme le gomme non posso mai vabbè niente 1 minuto e 1,900 quindi 1 minuto e 2 secondi quindi ragazzi siamo andati vicini 1 minuto 0 e 4 il mio record era 59 secondi e 4 si no 59 secondi e 8 noi siamo andati a 6 decimi di distacco quindi va bene e niente per questo video è tutto vi ricordo che se vi è piaciuto il video di lasciare un like commentare e iscrivervi al mio canale da fabcan è tutto bella raga e non ok vediamo Grazie a tutti.